I carabinieri della stazione di Real Monte, della stazione di polizia giudiziaria presso il Tribunale dei Grigento, a conclusione di un'articolata indagine coordinata dal sostituto procuratore della Procura della Repubblica dei Grigento, Antonella Pandolfi, scaturita a seguito di un esposto presentato da Lega Ambiente nel 2013, hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del Tribunale dei Grigento Luisa Turco di un terreno di circa 15 ettari al cui interno ricade la torre di Monterosso, nonché di due manufatti allo Stato Grezzo ricadenti in località Fondo Pergole, Torre di Monterosso e Real Monte, di proprietà della società AgriPers SRL. Indagate otto persone, tra queste vi sono un funzionario del Comune di Real Monte e due funzionari di beni culturali di Agrigento, i quali avrebbero rilasciato le autorizzazioni edilizie e paesaggistiche in contrasto con il vincolo di inedificabilità assoluta. I reati contestati vanno dall'abusivismo edilizio in zona vincolata alla lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio, alla distruzione e alterazione di bellezze naturali e di luoghi di particolare pregio storico paesaggistico.